La polizia tanzana è sulle tracce del leader di un gruppo islamico, sospettato di aver aggredito, con l'acido, due diciottenni inglesi a Zanzibar. Issa Ponda, capo del Consiglio dell'Organizzazione Islamica con sede ad Are Salam, è stato ferito in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine, ma è riuscito a fuggire. Braccato dalla polizia, sulla sua testa pende una taglia di 4.000 euro, offerta a chiunque sia in grado di dare informazioni utili alla sua cattura. Le due giovani britanniche aggredite, Katie Gee e Kirstie Trapp, erano a Zanzibar per un'iniziativa di volontariato. Trasferite a Londra venerdì, sono state ricoverate in un ospedale specializzato in ustioni. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Due settimane fa, Katie era stata aggredita verbalmente perché cantava durante il Ramadan.